Le notizie di venerdì 21 dicembre ben trovati. I comuni di Ripe, Castelcolone e Monterado hanno deciso attraverso le votazioni dei consigli comunali di aderire al progetto di unificazione. La regione dovrà provvedere a sancire il passaggio al nuovo comune e poi dovrà dare la parola ai cittadini attraverso il referendum. Le iniziative di Caritas Senigallia, il servizio. Presentato a Senigallia l'ormai consueto progetto Caritas Campus per la commercializzazione delle magliette, il cui ricavato andrà in parte per le famiglie bisognose del nostro territorio. Abbiamo donato 4.800 euro alla Caritas locale. Questa iniziativa quindi riprende con una maglietta che è sempre l'articolo più attraente per un cliente per poi ricavarne una donazione e verrà proposta in tutti i negozi Campus delle Marche e dell'Umbria. Una maglietta 20 euro, è un gesto che qualsiasi persona può fare e dona ben 10 euro alla Caritas del posto. Abbiamo inteso proporlo in tutti i negozi nostri delle Marche e dell'Umbria. Pensare agli altri e fare beneficenza è un gesto nobile ma anche doveroso. Iniziative come queste che ci aiutano a creare una rete di solidarietà con le istituzioni ma anche con aziende private come appunto questo dei negozi sportivi, ci aiutano ad incrementare un fondo che viene totalmente rigirato a queste situazioni di povertà, a queste famiglie. Quindi io mi sento proprio di ringraziare gli imprenditori, tutte quelle realtà e Stefano Bartolini per questa iniziativa perché veramente è una solidarietà concreta che si realizza. Torna sabato 22 alle 21 presso il Teatro La Felicia il concerto di Natale del complesso musicale Città di Senigallia che vede quest'anno l'esordio cittadino del nuovo maestro Piercarlo Fonte Maggi. In scena un ricco e variegato programma musicale che vedrà anche l'intervento del mezzo soprano Andreina Zatti. Parliamo adesso di sport, parliamo di pallavolo. La Dea Gourmet, la squadra femminile della pallavolo Senigallia si qualifica per la pool promozione. Nell'ultimo impegno del 2012 le Nerazzurre di Coach Paradisi hanno vinto in trasferta per 3-0 a Gabicce Mare. Inanellando così la tredicesima vittoria su 13 gare di campionato. L'ultima vittoria contro il Gabicce in casa appunto del Gabicce ci ha portato con tre giornate di anticipo ai play-off quindi al girone promozione meglio. È la prima volta che capita nella storia dell'US pallavolo Senigallia arrivare addirittura con tre giornate di anticipo a conquistare il diritto a partecipare al girone promozione. 13 partite, 13 vittorie, soltanto due partite al tie break. Io credo che sia un record assoluto, direi forse un miracolo sportivo che si è realizzato però non con un intervento ultraterreno improvviso ma è stato un lavoro durissimo di 10 anni e devo dire che quest'anno abbiamo una squadra meravigliosa che nasce per 11 tredicesimi all'interno del nostro settore giovanile con soltanto due nesti, due ragazze peraltro bravissime, la Morganti e la Masciarelli che ci sono perfettamente inserite all'interno del gruppo. Il tennis tavolo Senigallia ha aderito alla manifestazione Animiamo il Centro per Natale organizzato dalla CNA di Senigallia. Ogni giorno i volenterosi grandi o piccoli in cerca di primati potranno salire sul palco di Piazza Saffi e cercare di ottenere il miglior numero di rimbalzi consecutivi su una racchetta da gioco. Questa è l'ultima notizia, ringrazio Michele Manoni per la regia e il montaggio e l'appuntamento è come al solito per la prossima edizione.